Un santo nella tempesta, il fondatore dell'Opus Dei, la storia di San José María Escrivá nel contesto della guerra di Spagna, di Franco Olearo. Nel contesto della guerra civile spagnola, il giovane José María Escrivá si forma, cresce e fonda l'Opus Dei. Robert è un giornalista incaricato dalla sua testata di scrivere un articolo su José María Escrivá, la cui beatificazione è prossima. Arrivato a Madrid, cerca di contattare suo padre Manolo che non vede da anni. Questi, prima riluttante, decide di raccontare al figlio la sua storia, che fu strettamente connessa con quella di San Escrivá. Trascorsero una serena giovinezza assieme, ma poi la guerra civile separò i loro destini. Come nei suoi precedenti film, il regista Ronald Joffe affianca a José María un personaggio di contrasto, Manolo, un immaginario amico di infanzia che ben presto sceglie strade diverse. Nel suo animo tormentato si addensano spirito di vendetta, gelosia e l'atteggiamento cinico di chi non trova nella vita nessun senso se non la ricerca del proprio tornaconto. Nel 1936 José María aveva 34 anni e Joffre non si limita a schizzare in brevi quadri le pezie di questo giovane sacerdote e dei suoi primi seguaci, la difficile vita in una Madrid sotto la minaccia dei rastrellamenti dei repubblicani, la prima approvazione dell'Opus Dei, la lunga marcia attraverso i Pirenei per passare nella zona nazionalista. Ma, pur considerandosi un agnostico, l'autore ha compreso molto bene la fede che ha sostenuto José María in quegli anni e man mano che il racconto progredisce cresce in profondità fino ad abbracciare tematiche universali. Il significato del perdono, il potere lacerante dell'odio e della vendetta, il senso del male che colpisce anche gli innocenti, i segni con cui cogliere la provvidenza divina. In una sequenza drammatica, di fronte alle violenze che colpiscono sacerdoti e persone innocenti nella Madrid del 1936, i giovani che accompagnano Iscrivà ritengono che sia necessario reagire, armandosi e organizzando una forma di crociata. José María ricorda loro che la rivoluzione che compie un cristiano è prima di tutto quella interiore. Non ci può essere odio fra noi perché siamo tutti figli di Dio, anche i nostri nemici. Bisogna essere operatori di pace e pregare anche per chi ha torto. Un altro tema importante che attraversa tutto il film è quello del perdono. Lo ricorda il direttore del seminario dopo un litigio che vede coinvolti José María e Manolo. La negazione del perdono è l'unica cosa che non ci verrà perdonata. È il perdono che riunisce alla fine del film Manolo con suo figlio sul letto di morte, dopo anni di indifferenza reciproca, e lo unisce idealmente anche a José María, morto anni prima, che non aveva mai cessato di pregare per lui e scrivergli regolarmente. Il silenzio di Dio, il senso imperscrutabile del dolore che colpisce anche gli innocenti, viene affrontato più volte in diverse circostanze del film. Da José María Bambino, che dopo la morte della sua terza sorellina, chiede alla madre se ha ora iniziato a odiare Dio. Alla ragazza che ha subito violenza e che si domanda se Dio non sia un mostro, ma che poi decide di rispondere con più amore e più preghiere. Spetta però alla tata di José María, una simpatica Geraldine Chaplin, cercare di cogliere il senso alla providenza divina. La vita è come un filo di uno di quei ricami intrecciato con altri fili, tenuti insieme nello spazio e nel tempo. È difficile intuire il modello che Dio sta ricamando prima che sia finito. Geoffrey prende questa come altre frasi dalla ricca biografia di Saint-Éscrivain, ma le rielabora creativamente all'interno della sua costruzione, concedendosi anche qualche comprensibile variante. Il padre di José María era un commerciante di stoffe, ma nel film diventa il proprietario di una fabbrica di cioccolato. In questo modo la trasformazione di un chicco in una preziosa tavoletta di cioccolato, grazie all'abilità e al duro lavoro dei lavoranti, diventa la metafora di un percorso di santificazione tramite le attività ben fatte di una vita ordinaria. Per approfondimenti su Saint-Éscrivain e per vedere il trailer del film Un santo nella tempesta e per leggere le schede dei migliori film, visita il sito filmgarantiti.it Grazie a tutti. Grazie.